Ieri Rai, questo video si diffusa, Giovanni per volerla a un ragazzo La social vocalista ce l'ha già Toglie il vero merito, vai Lo spesso è troppo amici Ci sto facendo spingare questa noce lì Anche Andrea Qui si va sul pesante Guarda Andrea Fatemi vedere le mani a tempo Perché chi non parte le mani non trova per 25 anni, ok? Lascia questo, Gabriele 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 Spegni quello e accetti quello tuo Spegni quello rosso Quello rosso, spegnilo Lascia così, ragazzi Grazie a tutti 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 E no, e no! E no! Eeeh! 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 Ok signor Sfari, questa era una cazzata! Ora ci fate sentire la voice! Grazie! Dagli e grazie! Eeeh! 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 Il capo è i cosologi! Non lo amare come sub y'è la balla! Esageratamente esagerato, capo dj! Eeeh! 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 Grazie a tutti.